Ciao da Rosanna, la voce narrante con la faccia intorno, protagonista di questo episodio della narratrice di sogni, sarà Gianfranco Sorge con la sua nuova opera, Perturbanti congiungimenti. Dopo la descrizione della trama, leggerò per te un frammento tratto dalle pagine del romanzo. Buon ascolto! Già nel ventre della madre, Musilia ha conosciuto grandi perturbamenti. Nata da una donna che vuole modellarla come un'opera artistica, secondo una sua deformata visione estetica, una volta adulta cerca di ribellarsi a quell'identità di Creta. Le restano però ancora addosso le impronte materne. Dichiaratamente bella ma intimamente ferita, finisce per farsi plasmare anche da un uomo con una misteriosa cicatrice che la domina nel cuore e nei pensieri. Forse per lei il solo amore sicuro è quello solitario che la avvolge durante l'atto creativo. O così è, fino a quando scopre di aver generato qualcosa di più, una nuova vita dentro di sé. Storie d'amore a tratti malate e vacillanti che nella loro disperazione però mostrano immensa bellezza. «Questa gravidanza mi ucciderà», disse Gloria con voce rauca. Era sdraiata sul letto, un kimono scuro le lasciava scoperti i piedi. Raoul leggeva un giornale, poco distante, in poltrona. Dopo aver scosso leggermente i fogli, le rispose «Non potresti dire cose meno banali?» «Lo trovi banale che io mi senta morire», incalzò Gloria. La voce, anche senza salire di tono, le si era colorita. «Possibile che in te alberghi sempre il melodramma», insinuò Raoul senza deporre il giornale, alludendo ai trascorsi di attrice teatrale della moglie. Scosse ancora i fogli, come se volesse amplificare con le mani la forza delle sue parole, e aggiunse «Pensa piuttosto al dopo, quando stringerai fra le braccia la tua bambina, nostra figlia. Lei vivrà, non io. Dopo aver straziato la mia carne, verrà fuori come se niente fosse. Sarà affar tuo, dopo». Sembrava recitasse un copione, eppure datato, piuttosto che esprimere le sue emozioni autentiche. Raoul abbandonò il giornale e le si parò davanti. «Questa storia di considerare il marito un mostro per chi ha ingravidato la propria moglie è una storia vecchia. Non sei creativa oggi». Era serio, per niente dispiaciuto. Gloria cambiò registro. Quasi sospirò. «È stato bello prima. Congiungermi a te mi sembrava naturale. Accoglierti in me mi faceva sentire completa, appagata. Non immaginavo che il mio corpo ne sarebbe uscito devastato, irriconoscibile. Non posso guardarmi allo specchio senza provare un'invincibile ripulsa. Sei quasi al nono mese», la interruppe Raoul. «Fra qualche giorno tutto sarà finito e tornerai come prima». «Sarà finito. L'hai detto», disse Gloria sollevandosi sui cuscini e guardandolo intensamente aggiunse. «Vuoi che ti racconti il sogno di questa notte?» «No». Raoul allora la lasciò dopo averle lanciato un'occhiata sinceramente irritata. Sola, Gloria ripercorse il sogno, perdendosi nelle sue solite lucubrazioni. Una vacanza nel Mediterraneo si era trasformata presto in un incubo. Ricordò se stesse in acqua trascinata giù da un grande mammifero, forse un'orca. Inutilmente aveva cercato aiuto. Nessuno l'aveva soccorsa. Nemmeno un uomo a poca distanza, sugli scogli. Alla fine da sola era riuscita a raggiungere la riva. Ma anche lì era annidato il pericolo perché le rocce presero a inglobarla al loro interno. Il sole era scomparso all'improvviso. Tutto era confusione e paura e dolore. Poi, rassegnata alla morte, aveva visto i veri volti dell'uomo e dell'orca. Erano suo padre e sua madre. Perché? Rimuginò senza darsi pace, girovagando inquieta per le ampie stanze della casa. Eppure, per quanto si sforzasse, non riusciva a dare un senso alle immagini che quell'incubo le aveva restituito al risveglio e che le erano rimaste impresse, come fotogrammi di una pellicola inceppatasi inaspettatamente durante la proiezione. Un singhiozzo insistente la fece vibrare. Quell'addome pulsante, sotto le contrazioni spasmodiche del diaframma, le rammentava la sua disgraziata condizione. Il suono causato dall'improvviso chiudersi della glottide fuoriusciva dalle labbra aggressivo, poi rimbalzava sul corpo inquieto come l'eco dei suoi pensieri. Era simile a un pianto distorto in cui si miscelavano il disperato bisogno di sentirsi protetta da Raoul e il rancore verso di lui per essere stata abbandonata. Quell'ogoria interno diveniva, ogni minuto che trascorreva sempre più aspro, insostenibile. Sperimentava l'affannante sensazione di oscillare fra due stretti poli, ossessivamente, senza potersi fermare. Lo sguardo cadde sulle unghie delle mani laccate con cura e a un tratto trovò rassomigliassero a delle micidiali cuspidi affilate, già intrise di sangue. Immaginò poi quelle cuspidi di staccarsi dalle dita per andare a trafiggere il corpo di Raoul, bagnandosi di altro sangue. Ebbe infine il sopravvento sul groviglio delle sue pulsioni, un bisogno irruente, trangugiare un'intera tazza di cioccolata. Fin da bambina si rifugiava nel morbido calore del cioccolato caldo per dimenticare la sofferenza. Non voleva però perdere tempo in cucina. Con passo leggero e veloce si avvicinò alla credenza che troneggiava nel salone. Gli intarsi scuri risaltavano sull'uniformità chiara del legno sottostante, suggerendole l'idea subito scansata che stessero lì come orrendi tarli giganti in attesa di erodere la pregiata manifattura. Aprì in fretta onanta. Prese, le mani tremanti, un'elegante conchiglia in cristallo e argento. Afferrò da lì un cioccolatino e avvidamente lo sicchiò. La tensione si smorzò di colpo. Un unguento sembrava stesse sciogliendo la rigidità dei suoi muscoli, quando un bruciore improvviso iniziò a refluirle dallo stomaco lungo l'esofago fino a sbucare nel cavo faringeo risvegliando con acidità la ragione intorpidita.